Ok, adesso scendi che voglio... No, Conti! Ma che c***o! Questa è la rampa più alta di Fortnite e oggi, no, lo dobbiamo vedere quanto si può andare veloci con la moto. 3, 2, 1... Ok, no, l'ho trovato la moto, vieni qua perché dobbiamo costruire una rampa gigante! Contins, ma con chi pensi di stare a parlare? Io non solo ho già trovato la moto, ma sto già facendo i materiali! Oh mio Dio, no, raga, dobbiamo andare da Lollopolo, dobbiamo creare una rampa veramente grandissima! E poi, Lollo, dobbiamo fare tutti i trick e dobbiamo vedere quanto va veloce sta cavolo di moto! Posso fare una previsione? Secondo me va tipo velocissima! Sì, secondo me esplodiamo nello spazio, non lo so, adesso lo scopriremo! A quanti materiali sei, signor Conti? Quanto ferro e legno hai? Allora, sono a 104 di legno, non so perché proprio 104! Devo farmare un bel po' di materiali perché questa rampa deve essere veramente gigante, sappilo! Dobbiamo arrivare fino alle stelle, vicino al paradiso! Beh, mi sembra pure un po' eccessivo, comunque io sto già a 500 di legno, quindi vuol dire che la prima rampa forse la posso iniziare a costruire! Sì, allora vieni qua vicino a me e iniziamo a fare una cosa fatta bene! Iniziamo qui dall'acqua e partiamo con le scale! Iniziamo a fare tipo delle scale da tre così! Io vado molto in alto e tu continui a prendere i materiali, mi raccomando! Gli ho già finiti Lollo, non ci posso credere! Ma come li hai già finiti? Ma se è un nebo clamoroso, io continuo la rampa, dai ti faccio vedere come si fa! Che grazie, meno male che ci sta Lollo Pollo che fai video con me, Lollo ti voglio bene! Ragazzi, devo ammettere che la nostra rampa sta prendendo forma! Lollo si è andato molto avanti, devo ammettere! Ora è il momento di prendere le moto, portarle qua sopra e scendere e fare veramente tutti i trick che esistano! Comunque ti dico, da qua sotto la rampa mi sembra tipo un... Ah, ho capito! Beh, è simpatica! Oh mio Dio, ma è veramente gigante! È enorme! Vado a prendere subito la moto e non vedo l'ora di volare, porca vacca! Volerò e distruggerò la moto, secondo me! C'è Fabio! Dov'è Fabio? Oddio, c'è Fabio che balla... No, Conti, mi dispiace, ma devo ballare con Fabio! La missione tu la faremo in un prossimo video, cioè... Fabio! E c'entra Fabio! Fabio, 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 mi fai vedere il c***o, Fabio! Ok, allora, siamo pronti! Adesso prendo la moto, la porto sopra e faremo questa cosa! Tu aspettami giù! Ah, aspetta, aspetta, no, aspettami tu! Da 1 a 10, quanto sei pronto? Io sono carichissimo, il problema è 1, ci dobbiamo sbrigare! Perché sta per arrivare la safe! E dobbiamo provare questa cosa prima che arrivi, sappilo! Sì, ma tu sai che questa rampa si regge su una scala? Eh, basta che non la spacchi! L'importante è che non spacchi nulla, perché sai cosa? Va a finire che LOL... No, no! Cazzo, no, l'ho fatto cadere la moto! Brick è incredibile! Ragazzi, Contins, Contins è un cretino! Cioè, ma vedete che... Cioè, immaginate far cadere la moto, devi essere stupido! Allora, signor Conti, dato che tu sei nabbo e sei caduto, io ti ho portato su un'altra moto, da cui la rampa sembra incredibile, quindi se tu non mi raggiungi almeno questa zona qua, quindi 400 metri di salto, io ti denuncio! Non ti preoccupare, sto arrivando, posizionami bene la moto, perché adesso farò una cosa incredibile! Siamo tutti carichi e se non lasciate un like adesso siete veramente dei tacchini che volano sopra i campi di Heidi! No, questa non l'ho capito! Guarda, io ti sto aspettando seduto sulla moto... Oh, finalmente è arrivato, cavolo! Facciamo un bel countdown di 3, 2, 1, partiamo! A quanto stiamo andando? Non lo so, tipo a 250.000 all'ora! Oddio! Che figo! Aspetta che stiamo per prendere la rampa, stiamo per prendere la rampa... Non ha proprio funzionato! Ma abbiamo fatto un salto di 20 metri, Conti! Stiamo andati veramente molto veloci! Adesso ci riproviamo, non vi preoccupate! Sto un po' sbandando, Lollo! Sto troppo sbandando! Tranquillo, cavolo! Tranquillo! Però, scusa, mi dovrebbero dare un premio, Perché sto guidando veramente troppo bene Io non ho ancora... Ma per me di che mazzitto che non sei capace! Ok, mi puoi costruire? Perché sennò qua succede tipo un casino! Non c'ho materiali! Vai, vai, prova! Vai dritto! Spara veloce! Vai al massimo! Vado al massimo! Uh, forse ce la faccio! Oh, sì! Veloce a fare materiali, Conti! Che qua il tempo stringe! Come le mie mutande in questo momento! No, allora, allora! Non mi interessa delle tue mutande! Però adesso dobbiamo fare una rampa fatta meglio! Perché prima faceva veramente pena! Adesso ci dobbiamo impegnare! Facciamo una cosa fatta bene! Perché l'hai fatta te prima, mica io! Quindi che incolpi a me? Sì, dato che il mio video non posso fare figure di merda! Quindi almeno aiutami! Ah, vabbè, c'è ragione! Aspetta, aspetta! Guarda che ti faccio vedere! Un trick di magia! Non so se lo conosci! Lo sai che anch'io sono un mago! Guarda, adesso c'ho la mano! La chiudo! E poi... Conti sto arrivando! Vai! Sali! Lo l'ho fatto! Sali che ti porto a fare il salto più alto del mondo! Finalmente un bel maschione che mi porta sopra la moto! Vabbè, allora adesso l'ho fatta veramente bene! Piano che vedo la tempesta qui sopra! Ma mi sto tipo rincoglionendo a guardare le nuvole! Sì, ma poi non sono le normali! Guarda! Ok! Adesso scendi che poi... No, Conti! Ma che c... Dai, ma questo video è veramente un fallimento! Ma Conti, ma hai visto che cavolo è successo? Mi ero salvato per miracolo! Poi tu mi hai messo il muro sotto! E la moto è sprofondata nel nulla! Mio Dio, regà, non riusciamo a fare una cosa fatta... Dobbiamo fare una cosa! Prendere i materiali, fare una rampa... Manco quello siamo riusciti a fare! Vabbè, riproveremo! Piano piano! State morto! Ma tutta che... La ciotolaica almeno per la simpatia, vi prego! Ho capito! Ma io non ho mai visto un uomo più stupido di Conti! Cioè, è difficile! Un uomo più stupido! Un uomo! Ah! Ma io non sono un uomo, sono un bambino! Ma dai, una rampa fatta bene, ma farla muo per forza! Non ce la faremo mai! Ok, Lollo, sono salvo! Dov'è la moto? Cazzo lo so io! Come che cosa? No, spesso, ce l'avevo io! Eh sì, ce l'avevo! No, spesso ero incoglionito! Dov'è? Lollo, la moto! Lollo, una cosa da muovare! Tenerci la moto! Eccola! Sì! Dov'è? Bell! Sì, era qua! Non era questa, però! Cioè, mi stai prendendo in giro! Vabbè! No, no, sì, era questa! Che dici, no? Secondo te, posso andare sopra la carrucola qua? No, vabbè, non importa! Adesso facciamo tutti i trick, Lollo! Passiamo! Vai, 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 vai! Sali, 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 sali! No, no, non salta! Vabbè, non ti preoccupare! Siamo stati comunque veramente molto bravi! Impegniamo! Impegniamo! E stiamo andando veloci, Lollo! Stiamo andando velocissimi! Molto veloci! Salta! Oh, bello! La dritta stavolta, se riesci! Ho due di materiali! Merda! Aiuto! Ti fa cadere la moto, Lollo, vollo! Piano, adesso ci siamo! Vai! Eh, aspetta! Eh, non riesco a fare retromarcia! C'è un vecchio detto cinese che dice Con molta calma e tanta vasellina, anche un elefante in cui... Vabbè! Signori, parti! Vai, vai, vai! Quanto stiamo andando veloci? C'ho una mezza idea, tantissimo! Aspetta! Oh! Eh, che... Aspetta, aspetta! Oh, è un airdrop! Che idea, te riprochiamo! No, ma quale c***o! Era bellissima l'idea! Volevo fare una rampa mentre volevamo! Corri, corri, corri! Prendi la moto! Ne facciamo un'altra e questa volta... Faccio vedere come si fa! Faccio vedere come si fanno le rampe! Alla faccia di chi dice che le rampe... Asbar... Aspettami! No, voglio farla da solo, non mi interessa di te! Ok! Aspetta, vado da solo! Quanto... Quanto sono stato bravo, regà! Fermo là, non ti muove! No, non ti muove! Questo video, regà, è un fallimento! No, ragazzi! Questa è la rampa più alta di Fortnite e oggi, Lollo, dobbiamo vedere quanto si può andare veloci con la moto! Sei pronto? Guarda come sto ballando, certo che sono pronto! Vai! 3, 2, 1... Sìììì! Attento ai piccioni! Dobbiamo pensare a qualcosa di bello tipo alle marini... Oh! No! Non ci credo, hai preso un piccione! Sto uccidendo tutti praticamente! Oh mio Dio, ma quanto stiamo andando veloci, Lollo! Troppo! Sei pronto per la rampa? Oddio! Oh! 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 È stato un po' deludente! Però siamo andati un botto veloce, hai visto? L'alto finale è stato un po' deludente, devo ammettere, però è stato velocissimo! Dobbiamo assolutamente riprovarlo almeno l'ultima volta, Lollo, però questi piccioni hanno un po' rotto l'uccello, cioè nel senso... Oh! No! Oh, un ufo! No! Ah, non lo so io! No, è un balletto di fort, cioè non è un ufo, vero, è fake, perché praticamente quello è un emote, non è un... Quantinzo, guarda un pilota professionista come ti fa fare la rampa e ti fa divertire un po' di più! Devi andare talmente veloce che i freni si devono disintegrare! Vai, Lollo! Vai, veloce, è un mio... Eh! Eh! Non ci posso credere! Vai, 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 vai! Ho lasciato il volante, forse è un po' pericolosa come cosa! Vai! Oh! Posso dire che sono andato leggermente più lontano di te, tipo di forse 10 metri, vabbè! Ho partito, Lollo, sto andando veramente troppo veloce, non riesco quasi a toccare... Oh! Oh! Non, non, non... Oddio, stai facendo destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra... Non mi va più avanti, non so perché! Non so perché, mammina! Ragazzi, quando vi dicevo prima che non avevo mai visto una persona così stupida, questo intendevo, capito? Adesso faccio i trick, boom, boom, oh mio Dio, ma sono veramente tipo uno che va in motocross, sono un professionista e se vi piacciono le moto, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, lasciate like e iscrivetevi anche al canale di Lollo Pollo e iscrivetevi anche al mio canale. Detto ciò, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao belli! Ciao, forza Roma!